Ciao a tutti ragazzi, allora oggi faccio un video un po' particolare, sono stato contattato nelle ultime settimane da ben tre siti siti che vendono prodotti tecnologici e non solo ma soprattutto prodotti tecnologici a prezzi molto 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 bassi sospettosamente bassi, quindi a prescindere, non ci sarebbe forse neanche bisogno di dirlo, non fidatevi di siti che vendono iPhone 7 a 200 a 300 euro, ok? Mi hanno contattato questi tre siti, logicamente non mi hanno contattato i siti, mi hanno contattato delle singole persone proponendomi denaro in cambio di video dove io parlavo bene e pubblicizzavo questi siti le offerte erano anche abbastanza allettanti perché due siti mi hanno offerto 300 euro per fare un video, un sito addirittura è arrivato ad offrirmene 500, non farò nomi di siti perché non mi va di mischiarmi in mezzo a cose legali, tanto cerco, spero che capirete il senso di questo video. Mi sono andato ad informare un po' e ho scoperto che questi siti non sono nient'altro che delle truffe diciamo che era abbastanza facile arrivarci perché sin da piccolo mi hanno insegnato di non fidarmi di chi vende cose a un prezzo troppo basso, quindi soprattutto se trovo un iPhone 7 a 200 euro naturalmente mi viene da non fidarmi praticamente il meccanismo è abbastanza semplice ma comunque allo stesso tempo un po' complesso cerco di spiegarvelo così con questo piccolo video prendiamo ad esempio un bel iPad che nei negozi ad esempio troviamo a 400 euro andiamo sul sito e lo troviamo a 200 alla metà e lo vogliamo comprare quindi che cosa facciamo? Ci siamo noi che per prendere questo iPad che vogliamo dobbiamo pagare 200 euro ma questo non basterà a farci arrivare il nostro iPad a casa perché il sito ci dirà che oltre a dover pagare noi 200 euro dovremmo trovare tre persone anch'esse disposte a comprare l'iPad e quindi a pagare 200 euro l'uno che sommate alle nostre 200 euro iniziali faranno un totale di 800 euro il sito a questo punto che cosa farà? Avrà ricevuto 800 euro ricordate il prezzo reale dell'iPad era 400 euro quindi ne comprerà uno a 400 e lo darà a me in questo caso intascandosi 400 euro adesso che cosa farà? Logicamente le tre persone che abbiamo portato noi porteranno a loro volta tre persone ognuno le quali pagheranno 200 euro a persona per un totale di 600 euro a gruppetto se facciamo un conto sono 1800 euro a questo punto il sito rifarà di nuovo il giochetto comprerà tre iPad a 400 euro l'uno e li darà alle tre persone che noi avevamo portato quindi 1800 meno 1200 fa un guadagno di 600 euro che sommati ai 400 euro iniziali fanno 1000 euro adesso questo gioco si ripeterà all'infinito quindi come avete potuto vedere da questo video il sistema poi va avanti all'infinito i guadagni diventano sempre più grandi e arriverà un momento in cui non ce la faranno più logicamente a dare un iPad come avete visto nel video a tutti e quindi una marea di persone sarà truffata e loro avranno messo da parte tantissimi soldi e l'ultimo gruzzolo che avranno racimolato da tutte quante quelle tre persone portate perché poi è un sistema piramidale esponenziale quindi se vi mettete lì con carta e penna vedete a che cifre arrivate alla fine gli ultimi non riceveranno mai più niente e quindi loro scapperanno con i soldi e via se vi mettete a cercare su internet è pieno di questi siti che sono stati chiusi ci sono stati arresti, cause eccetera eccetera vi prego semplicemente di non fare il ragionamento del tipo ma a me che mi frega se a me poi me lo danno fregano gli altri non fate questo ragionamento perché prima cosa non sapete voi se rientrerete in quelli che ricevono l'iPad prima seconda cosa potete mettere nei guai tra virgolette chi portate voi perché voi dovete portare tre persone quindi comunque o familiari, parenti, amici, conoscenti comunque poi fate una brutta figura nei loro confronti e fate perdere loro probabilmente dei soldi i tempi di attesa sono molto lunghi perché voi intanto dovete pagare il sito poi dovete trovare queste tre persone e loro devono pagare poi non è che appena queste tre persone pagano vi arriva il prodotto quindi vi invito comunque a non fidarvi di questi siti appena li vedete statene molto lontani anche se vi garantiscono che vi arriverà il tutto come avete potuto capire io non ho accettato queste offerte ci ho anche discusso perché gli ho detto che sono dei truffatori si sono incazzati quindi niente il video l'ho fatto lo stesso non vi faccio nomi ma avete capito vi invito a non comprare su questi siti ciao il banana eccolo qua